Centro Formamentis, lezioni private, corsi di lingue e di musica a Sondrio. A tratti sembra di assistere perfino ad una gara. Le stazioni turistiche quasi si contendono il primato di località più fredda. I record, si sa, fanno sempre notizia soprattutto quando si arriva a meno 28. Ma al di là delle temperature, più o meno eccezionali, fatte registrare anche in provincia di Sondrio da Burian, gli esperti ricordano che siamo in inverno e se è vero che il picco sotto zero è il più significativo a fine febbraio degli ultimi anni, uomo e natura hanno comunque gli strumenti per difendersi. In campagna, soprattutto, nessun timore. Secondo addetti ed esperti, non si corrono rischi di nessun genere. Infine, uno sguardo alla situazione idrica. A differenza dell'anno scorso, le precipitazioni sono state abbondanti e le riserve in quota non mancano. Non resta che confidare in un marzo all'altezza delle aspettative. Grazie mille. Grazie.